Uno dei dispiaceri più grandi è quello dei nostri tifosi equali. Vanno riconosciuti i grandi sacrifici fatti per seguirci in trasferte anche complicate. Ci sono stati vicini sempre, non è bastato. Devo dire loro grazie per la civiltà nel rapporto con i giocatori. Non so se in futuro sarà ancora qui, ma la Sampa ha bisogno della sua gente. Parole di resa quelle del presidente Marco Lanna, al patron blu cerchiato l'ingrato compito di salutare la Serie A dopo una stagione travagliata tanto sul campo quanto in ambito societario. Lo dico con grande rammarico, tutti noi del CDA stiamo solo cercando di favorire quei soggetti interessati alla salvezza della società. Il nostro scopo è rendere la Sampdoria appetibile, ma la ruota girerà e la Samp tornerà nel posto dove merita di stare. Sarà dunque Serie B, ma prima c'è da vincere la partita più importante, quella della sopravvivenza.